auto contro bici due incidenti mortali in due giorni aiuto al suicidio le parole d'addio di federico carboni domani pesero ospita il suo primo marche pride eventi via a mostra del cinema e passaggi festival italservice parte la caccia al terzo scudetto consecutivo la buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale del nostro telegiornale informazione di rossini news in questo notiziario di venerdì 17 giugno che purtroppo apriamo occupandoci di due incidenti mortali avvenuti in poche ore incidenti stradali di auto contro bici partiamo da quello avvenuto questa mattina all'alba attorno alle 6 a borgo santa maria in cui ha perso la vita un 32enne in sella alla sua bicicletta mentre stava andando a lavoro un'ultima discesa un'ultima pedalata in bici e poi lo schianto erano circa le 6 di questa mattina quando borgo santa maria è stata svegliata all'improvviso da un incidente avvenuto tra strada monte chiaro e via montegiano a perdere la vita è stato ali arshad pakistano di 32 anni investito da un'auto mentre si stava recando al lavoro in bicicletta la vettura una ford puma guidata da una donna di 54 anni stava percorrendo la strada principale provenendo da pesaro in direzione urbino e non vedendo l'uomo impegnare l'incrocio l'ha travolto un impatto tremendo che non ha lasciato via di scampo al giovane ali deceduto poco dopo il tentativo di rianimarlo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti sul posto anche i carabinieri ai quali ora aspetta ricostruire la dinamica dell'incidente da come hanno riportato diversi residenti il ragazzo abitava assieme alla sua famiglia nelle strutture residenziali di accoglienza in cima strada monte chiaro e provenendo proprio da lì all'alba di una giornata lavorativa come altre si è consumata la tragedia un'altra vita spezzata in strada borgo santa maria dopo quella di marco ragnetti avvenuta lo scorso 8 marzo quando nei pressi dell'incrocio con case bruciate il giovane sedicenne invadendo la corsia opposta di marcia è stato travolto da un camion e come vi abbiamo anticipato poco fa sono state ore terribili per quello che riguarda il sangue sulle strade ieri sera c'è stato un altro incidente uscendo dai confini della provincia di peso rubino e spostandoci su quelli di marina di monte marciano dove ha perso la vita una coppia quella formata dal 42enne alberto catani ex calciatore di vispesero e fano investito mortalmente mentre era in bicicletta assieme a lui anche la moglie stefania viterbo di 39 anni anche lei rimasta uccisa da una fiat panda guidata da una donna che per motivi da accertare ha perso il controllo scontrandosi fatalmente contro la coppia coppia che è morta sul colpo vano l'intervento repentino dell'ambulanza e ieri invece ci siamo occupati della morte di federico carboni fino a pochi giorni prima chiamato con il nome di fantasia mario federico carboni che è stato il primo italiano ad aver avuto accesso all'aiuto al suicidio iniettandosi ieri il farmaco letale come da diritti riconosciutegli federico è morto ieri a senigallia all'età di 44 anni e proprio oggi l'associazione luca coscioni che lo ha seguito in questo percorso ha divulgato il video messaggio da dio di federico che ora vi mostriamo ciao a tutti ero mario sono federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casuttino e sono rimasto tetraplegico da quel momento la mia vita è cambiata completamente non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio il meglio possibile però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e delle supportazioni che io non tollero più sul mio sul mio corpo la mia decisione del suicidio assistito la presi nel 2015 un pomeriggio parlando con mio padre mi chiese che che prospettiva avevo per il futuro e gli dissi che finché finché riusciva ad andare avanti sarei andato avanti e quando i dolori non sarebbero stati troppo forti avrei fatto di tutto per ottenere il suicidio assistito se era possibile in italia se non sarei andato in svizzera e nel 2020 a gennaio del 2020 incominciai a fare il testamento biologico e consegnai le dati in comune mi senti con la dignità e incominciai a fare tutta la documentazione per andare in svizzera verso maggio giugno ho ottenuto anche il semaforo verde e poco prima di partire per la svizzera mandai un'email a marco e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e che sei e che io sarei stato l'ennesimo italiano costretto ad esiliare all'estere per porre fine alle mie sofferenze e lui mi rispose federico fai quello che vuoi però c'hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese e così dopo pochi giorni contattai il segretario l'avvocato dell'associazione coscioni filomena gallo e incominciammo la parte burocratica per per cercare di ottenere il suicidio assistito in italia essendo stato il primo in italia ci ho messo venti mesi e mi auguro che le prossime persone che che ripercorrano la strada ci rimettano molto meno tempo perché venti mesi per chi sta male soffre sono veramente veramente lunghi vi saluto a tutti mario e per chi mi conosce federico ciao si è tenuta oggi la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto dal prefetto tommaso ricciardi comitato nel quale si è cercato di individuare le misure per contrastare gli episodi di movida molesta lungo la costa pesarese dal confronto è emerso che verranno intensificate le misure di vigilanza da parte della polizia soprattutto nel fine settimana mentre i gestori degli stabilimenti balneari sono stati invitati a farsi carico di far presidiare i propri locali dagli steward per cercare di impedire gli atti di vandalismo verso la proprietà privata il comune invece provvederà all'implementazione del sistema di videosorveglianza nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e domani sabato 18 giugno pesaro ospiterà per la prima volta il marche pride atteso evento comprensivo di corteo della comunità lgbtq che partirà da palla di pomodoro per arrivare a baia flaminia in quella che punta essere davvero una grande giornata di maturità culturale contro ogni discriminazione di genere domani sabato 18 giugno arriva pesaro per la prima volta il marche pride dalla palla di pomodoro a via le trieste fino a campo di marti di baia flaminia sventoleranno le bandiere arcobaleno per quella che intende essere una straordinaria occasione di unione e condivisione sulla base di valori quali la lotta all'omo lesbo bitransfobia ma anche dell'antisessismo l'antirazzismo e l'antifascismo il marche pride di fatto ha avuto un solo precedente nel 2019 ad ancona prima di riproporsi con un'edizione ridotta in tempo di pandemia ora pesaro dove il 18 giugno sarà il culmine di un mese e mezzo di iniziative culturali è importantissimo per diversi motivi sicuramente è una questione anche politica nel senso che politica nel senso alto del termine ovvero che le persone lgbt più e i loro alleati scendono in piazza per un'altra volta manifestare i diritti che in realtà ci aspetterebbero semplicemente perché siamo esseri umani come tutti gli altri quindi quindi il di fatto il diritto ad esistere a poter e a poter avere una vita dignitosa come tutte le altre persone di poter di potersi unire ad esempio in matrimonio come tutte le altre persone con la persona ovviamente che che abbiamo scelto per noi e non solo ecco ci sono tante questioni che riguardano ad esempio il lavoro penso ad esempio soprattutto le persone trans e alla difficoltà no del non avere documenti rettificati ad esempio eccetera nella ricerca del lavoro nelle carriere anche universitarie eccetera quindi c'è tanto che abbiamo da dire ci sono tanti motivi ancora per cui per cui fare un pride proprio perché non esiste purtroppo un'uguaglianza tra le persone lgbt più e le persone invece ci genera eterosessuali in questo paese in realtà non esiste ancora in nessuno quindi in questo purtroppo meno ancora rispetto al resto dell'occidente e importante per questo è importante anche però per semplicemente dire che si è condividere chi si è nella nella pubblica piazza visto che una volta questa era destinata il fatto di far parte di una minoranza sessuale significava dover rimanere nell'ombra in questo caso invece c'è la possibilità è un'altra ed è quella di di rivendicare chi si è appunto alla luce del sole ed è anche perché no una festa il marche pride di pesero partirà in mattinata dal comune dove ci sarà una conferenza con esponenti politici regionali e la presentazione del libro fuori i nomi di simone alliva nel pomeriggio il raduno alle 16 alla palla di pomodoro e poi la partenza in corteo fino a baia flaminia dove il gruppo del marche pride si ritroverà fino a sera in una sequenza di interventi l'assessore comunale camilla murgia ha invitato tutta la città a partecipare ad una giornata di grandi rivendicazioni culturali e politiche una politica che si è scontrata in queste settimane sul mancato patrocinio della regione marche al pride prima di tutto sicuramente pesero e non solo diversi comuni quelle di quello di fano e appunto non solo hanno patrocinato il pride il marche pride e ci hanno sostenuto nel caso di pesero principalmente poi in parte anche di fanno anche a livello finanziario insomma per la soprattutto per quelli che sono gli eventi culturali del pride per quanto riguarda quello che è successo con la regione marche diciamo che in parte forse ce lo ce lo aspettavamo penso che in realtà la regione marche abbia utilizzato un un escamotaggio una scusa di tipo diciamo amministrativo di regolamentazione regolamento in realtà per dire di no a una manifestazione che semplicemente non condividono da un punto di vista politico la norma a cui fa riferimento la regione era già in vigore nel 2018 noi abbiamo fatto il primo marche pride nel 2019 e il precedente governo della regione ci ha dato il patrocinio quindi perché questa volta no quando invece il garante dei diritti della persona della regione marche o anche la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna che sono enti regionali comunque ci hanno dato il patrocinio si comincia con i 40 anni di uscita nelle sale cinematografiche di eti capolavoro di steven spilberg e si concluderà con la ristorospettiva dedicata a mario martone in mezzo giannini capuana bel ferrara e tanti altri ospiti per una 58esima mostra internazionale del nuovo cinema al via dalla giornata di domani siamo all'esterno del centro artivisive pescheria di pesero dove è stata presentata oggi la 58esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema di pesero il festival culturale più longevo della città che torna per una settimana da domani sabato 18 giugno fino a sabato 25 giugno si parte con l'apertura dedicata in piazza al quarantesimo anniversario di eti quarantesimo anniversario dell'uscita nelle sale del capolavoro di steven spilberg si chiude con l'omaggio a mario martone poi ci sarà la presenza di giancarlo giannini e tanto altro di cui abbiamo parlato con i direttori artistico e organizzativo petro armocida e cristian della chiara così come con l'assessore alla bellezza daniele vimini le peculiarità sono sempre una mostra votata al nuovo cinema come il nome del del festival stesso quindi grazie a un concorso internazionale aperto a tutti i formati a tutti i registi e a tutte le durate dal cortometaggio lungometaggio intercettiamo il nuovo cinema ma il festival è anche memore del suo passato è la cinquantottesima edizione ci sono molti centenari quest'anno di ricordo uno in particolare lo voglio dire lo sapete tutti è stato festeggiato quello di per paolo pasolini cent'anni ma noi lo facciamo al nostro modo perché per paolo pasolini era qui nel 65 nel 66 nel 67 a lanciare il festival in maniera molto forte da un punto di vista internazionale lo ricordiamo parlandone con abel ferrara il grande regista statunitense che appena concluso un film su padre pio il precedente film era proprio su pasolini ecco incontreremo abel ferrara domenica in piazza per parlare del suo rapporto con questo grandissimo poeta scrittore che diciamo nel dna della mostra ci sarà anche giancarlo giannini uno dei tanti ospiti di grande di grande prestigio a impreziosire un programma particolarmente particolarmente ricco che si concluderà con l'omaggio a mario martone vera star di questa di questa edizione cui dedicheremo l'evento speciale una retrospettiva pressoché completa dei suoi film avremo giancarlo giannini che parlerà di pascolino sette bellezze proiettato in versione restaurata e quindi ricorderà l'ina vert muller e anche monica vitti a cui dedichiamo una serata in piazza con polvere di stelle alberto sordi ma ci sono anche tantissimi altri eventi ricordo il cinema in spiaggia e bagna agata è una chicca nel senso che ci sono tutte proiezioni in 35 millimetri quindi in pellicola è un'esperienza del cinema italiano più interessante del di questi centenari quindi ricordando pasolini bolognini salce damiani e poi anche questa spin off del festival un festival del festival dedicato ai più piccoli che peso lo film festival circus che come dire si collega anche con l'apertura del festival che dedichiamo ai 40 anni di et di steven spilberg e qui in giro come sapete c'è anche ti stesso un festival ancora molto ricco un festival in dialogo con la città sono tanti luoghi della città che si attivano e si accendono per la manifestazione oltre al tradizionale piazza cinema sperimentale ancora il cinema in spiaggia torniamo qua con l'attività mattino pomeriggio al centro artivisive pescheria e anche una novità la chiesa di sant'ubaldo dove avremo un'installazione quindi un festival che riempie il centro di pesero e anche anche la spiaggia con il cinema in spiaggia una mostra che ha saputo in questi anni coniugare aspetti diciamo anche di popolarità del programma senza perdere il senso anche della ricerca della curiosità tante che è la più frequentata diciamo era studenti di cinema critici appassionati sono perché è veramente un vero e proprio luogo di discussione oltre che di funzione del cinema all'aperto e anche nelle sale da questo punto di vista credo che svolga un ruolo anche fondamentale dopo due anni di lockdown nel riportare alla fiducia rispetto al cinema e speriamo anche il ritorno nelle sale perché tanto pubblico si è abituato ovviamente alle piattaforme nei due anni di comodità nel divano soprattutto i live 50 che sono anche una base importante del pubblico delle sale e la mostra del cinema deve contribuire anche su questo di creare una fiducia sul tornare al grande schermo e dalla mostra del cinema di pesero passiamo a passaggi festival è davvero tutto pronto per la grande kermes dedicata alla saggistica che parte domani da san costanzo per poi trasferirsi come di consueto a fano oltre 150 eventi in programma più di 200 interventi tra autore e relatori per un totale di 17 rassegne dedicate a narrativa poesia e fumetto conto alla rovescia per passaggi festival ed è davvero il momento di dare i numeri nove giorni 12 sedi tra centro e lungomare ma soprattutto più di 150 eventi oltre 200 interventi tra autori e relatori 17 rassegne librarie che spaziano dall'immancabile saggistica alla narrativa dalla poesia al fumetto in più 5 mostre e 17 laboratori per bambini può davvero bastare per questa grande rassegna che ormai da tempo è salita alla ribalta nazionale e che per il suo decimo compleanno allarga i suoi confini alla vicina san costanzo a san costanzo siamo pronti non nascondo che siamo anche un po emozionati perché si parte col botto con quattro grandissime autrici quattro grandissime donne andrea delogo veronica pivetti iva zanicchi catena fiorello sarebbe in una bellissima piazza la nuova piazza san pio da pietrelcina e quindi sabato 18 domenica 19 vi aspettiamo in tantissimi a san costanzo dal lunedì 20 a domenica 26 giugno poi si ritorna a fano dove tutto è cominciato tra novità e conferme spiccano i nomi di gaetano pecoraro delle iene oltre al giornalista di repubblica filippo ceccarelli che prende il posto di antonio caprarica da segnalare anche il conferimento del premio giornalistico andrea barbato martedì alle 22 a lorenzo cremonesi in collegamento dal donbass si parte a fano permettetemi in un delirio di incontri librari perché sono tantissimi molti dicono sono sono troppi tenete conto che i grandi feste a penso a manto a pordenone hanno addirittura 100 incontri al giorno al giorno quindi parliamo davvero noi ci stiamo arrivando pian piano e ancora non siamo quelli veri ma ci stiamo arrivando e devo dire però che l'offerta è davvero molto varia e composita cioè si va da che so dalle rassegne del chiostro delle benedettine che è una sede nuova rispetto agli ultimi anni di passaggi non non c'erano andate dal 2015 e lì ci saranno rassegne specialistiche quindi anche per un pubblico colto curioso a volte di nicchia anche perché si parla di scienza di filosofia di arte di tecnologie digitali intelligenza artificiale benessere e ai grandi nomi della piazza alla poesia della san francesco la narrativa straniera della san francesco ci saranno due spettacoli teatrali ci saranno cinque mostre tra cui una mostra guardate arriveranno anche delle televisioni sia italiane che sterniera fanno perché portiamo in mostra una poesia inedita di giuseppe ungheretti cioè è un evento culturale davvero incredibile questa mostra ingresso gratuito al sant'arcangelo quindi sarà un festival fatto da presentazioni di libri da eventi laboratori ci sarà anche una cena con l'autore insomma speriamo che il pubblico risponda positivamente tutti gli argomenti dall'arte alle mostre ai laboratori per bambini dal Lido fino alle Benedettine al centro della città è veramente una cosa enorme io penso che nella città di Fano un evento culturale di questo tipo non ci sia mai stato grande la soddisfazione degli organizzatori dunque per un festival dalla grande rilevanza culturale ma anche turistica ed economica un grande anniversario per passaggi perché in quest'anni ha dimostrato una crescita veramente eccezionale che devo dire non ci aspettavamo la capacità di creare un gruppo solido di fare rete con associazioni di categoria locali con altri del mondo della cultura altre associazioni con imprese con realtà nazionali ed internazionali ha fatto di passaggi un polo culturale un polo attrattivo veramente importante e fondamentale per la città quest'anno arriviamo al diecimo anno sono già un mese circa che a livello nazionale si parla di passaggi ovunque sono tanti gli ospiti che arriveranno oggi ho avuto la conferma che per quella settimana i nostri hotel e le nostre strutture sono praticamente piene quindi direi un bellissimo compleanno per passaggi e per questo devo ringraziare un team che parte da Passaggi Cultura che vede ovviamente tutti gli uffici dell'amministrazione comunale gli altri istituti culturali della città collaborare insieme e far crescere la città colgo l'occasione per un forte ringraziamento agli enti pubblici e ai nostri sponsor privati e pubblici in modo particolare al comune e alla regione che quest'anno con un contributo adeguato ci mette nelle condizioni di svolgere questo festival in grande tranquillità e di mettere le basi anche per i prossimi anni e definire proprio strutturalmente passaggi festival per tutta la regione Marche Matteo Ricci, Massimo Seri e Giuseppe Paolini al lavoro per includere Fano nell'arretramento della ferrovia un lavoro che si sta intensificando in seguito alla visita di Ricci al Ministero delle Infrastrutture per includere appunto anche il nodo di Fano alla variante di arretramento di Pesaro viste le caratteristiche simili riconosciute alle due città secondo Ricci dal Ministero c'è disponibilità a ragionare e assieme al Sindaco di Fano Seri e al Presidente della provincia Paolini si è al lavoro per individuare i migliori tracciati possibili da inviare poi al Ministero e Regione Marche Restiamo invece nelle comune di Fano con un progetto legato alla sostenibilità ambientale promosso proprio dall'amministrazione comunale Nel parco in zona campo di aviazione è prevista infatti nei prossimi mesi un'azione di potenziamento del verde urbano per migliorare la qualità dell'area e della vita a beneficio dei cittadini L'intervento conclusa la fase di progettazione e individuati finanziatori sarà realizzato da Arboglia per sviluppare nuove aree verdi in Italia L'assessore al fare delle comune di Pesaro Riccardo Pozzi ha annunciato oggi l'assegnazione del servizio di salvamento nelle spiagge libere di Pesaro fino al 31 agosto 2022 nel lungomare compreso fra Fosso Segiore e Baia Flaminia oltre alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara un servizio offerto dal comune del costo di 85 mila euro con 7 postazioni complessive che saranno attive dalle 10 alle 18 di ogni weekend dal venerdì alla domenica a giugno e luglio mentre ad agosto il servizio sarà attivo tutti i giorni Grande successo per la veleggiata solidale organizzata sabato scorso da Lions Club Pesaro in collaborazione con la Lega Navale una manifestazione attraverso la quale Lions ha raccolto fondi destinati alla fondazione Ant di Pesaro che da 30 anni opera sul territorio fornendo assistenza socio-sanitaria e domiciliare gratuita ai malati oncologici un pomeriggio di condivisione e di aggregazione veleggiando tra le acque dell'Adriatico senza dimenticare lo spirito di servizio tipico della mission lionistica E passiamo ora allo sport perché parte domani la caccia al terzo scudetto consecutivo dell'Ital Service Pesaro che domani sabato 18 giugno scenderà sul campo della Feldieboli per l'andata della gara 1 della finale Calcio d'inizio programmato per le 20.30 per quella che come detto è la terza finale consecutiva per la società del presidente Lorenzo Pizza Appuntamento tra sei giorni per la gara di ritorno a Pesaro fissata per il 23 di giugno sempre alle 20.30 E dal calcio 5 passiamo alla palla ovale perché oggi la Fiorini Rugby Pesaro ha presentato il suo nuovo acquisto Richard Paletta 27enne pesarese che torna a indossare la maglia giallorossa dei Kiwi dieci anni dopo l'ultima volta e sentiamo le sue parole in questo ritorno a casa Una grande emozione tornare a casa tornare dove ho iniziato a giocare quindi è qualcosa che ho sempre sognato perché appunto è un ridare indietro qualcosa che mi è stato dato dall'inizio qualcosa che posso sicuramente aiutare il club e sono a casa mi sento proprio tranquillo dove ho iniziato quindi bellissimo Anche se non è un passo avanti nella tua carriera comunque un ritorno a casa fa sempre piacere qual è il tuo obiettivo per questa stagione? Sicuramente fare un bel campionato con tutta la squadra ma è più importante secondo me la crescita del gruppo la crescita dei giovani e quindi dare indietro quello appunto con l'esperienza che ho avuto nei campionati non lo vedo come tornare indietro perché appunto è una crescita per me anche sotto quell'aspetto lì quindi il poter aiutare gli altri e dare la propria esperienza a disposizione di un gruppo che poi punta ad arrivare a dei risultati importanti per i giovani è importantissimo dare una costanza nel loro percorso soprattutto quando non vi è scelta nel senso che ciò che ho dovuto fare io nel 2011-12 era l'unico corridoio possibile per arrivare all'alto livello ora voglio con la squadra e con tutto il club dare un'opportunità ai giovani di scegliere almeno scegliere di poter rimanere a Pesaro per alzare il proprio livello senza dover lasciare casa la propria famiglia gli amici in maniera obbligata quindi appunto aiutare i giovani a crescere a casa lui può dare qualcosa non solo di rugby ma anche come persona e vogliamo creare un ambiente qui dove crescere le persone anche i giocatori l'ambiente è molto importante in società di rugby dopo il covid è un po' come il rugby 2.0 perché il mondo ha cambiato e dobbiamo crescere i nostri associati sui valori differenti di prima con questi acquisti qui quindi anche il ritorno di giocatori importanti come lui che aspettative avete per la stagione che parte tra qualche mese? Pesaro è difficile il Pesaro ha una storia di produzione di giocatori buoni anni fa e un gruppo di giocatori che gioca per giocare il rugby a livello alto devono andare a altre società vogliamo creare un ambiente qui sul campo sul palestra in palestra e tutti qualcosa di più professionale Ed ora i motori è un weekend al Mugello quello per il terzo appuntamento del campionato italiano Moto3 in cui corre il team MR Racing di cui Rossini TV è media partner la prima giornata di prove libere è stata utile raccogliere informazioni per la messa a punto delle moto in vista delle due gare che si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica le condizioni atmosferiche hanno favorito il lavoro dei piloti che non si sono risparmiati nei tre turni a loro disposizione ottenendo sempre tempi interessanti Domenica 19 giugno Pesaro ospita un appuntamento molto particolare ovvero un torneo nazionale di Subuteo si terrà presso l'azienda pesarese di Pipe Mastro De Paia e organizzarlo è il Subuteo Club Map di Colombarone Domenica 19 giugno a partire dalle nove e mezza circa appunto il Subuteo Club Map di Colombarone sarà ospite della ditta Mastro De Paia nota ditta produttrice di Pipe in tutto il mondo saremo ospiti per organizzare un torneo nazionale di Subuteo e il Subuteo è un po' un gioco che oggi potremmo definire vintage ma diciamo che raccoglie appassionati curiosi giocatori un po' qui da tutta Italia c'è stato un ritorno di fiamma circa una quindicina di anni fa e noi del Subuteo Club ci siamo ritrovati e ci ritroviamo settimanalmente attorno a un panno verde per trascorrere un po' di tempo insieme in allegria e serenità abbiamo avuto adesioni dalla Puglia da Lecce fino ad arrivare alla Romagna Modena Parma Viterbo quindi tocchiamo un po' tante regioni e tanti amanti di questo gioco che si faranno tanti chilometri chi in macchina chi in treno per venire a Pesaro i membri del Subuteo Club Colombarone è una combriccola di amici che così con la scusa dello stare insieme e di divertirsi grazie a Gabriele che avete conosciuto prima ha fondato un club un vero e proprio club riconosciuto a livello nazionale dove aderiscono e giocano persone eterogene nel senso dell'età è un club relativamente giovane perché è stato fondato cinque anni fa e ha riconosciuto ha visto riconosciuto l'affiliazione al circuito nazionale recentemente un mesetto fa ricordiamo che per domenica l'appuntamento è in ditta Mastro de Paia via Fossombrone Pesaro l'evento è aperto a tutti quindi ovviamente a chi ha aderito al torneo ma è aperto ai curiosi agli amanti agli appassionati a chi a chi sa di avere un tavolo da subuti un panno con delle squadre semmai in manzarda e vuole togliergli un po' di polvere ai bambini noi all'interno del club abbiamo dei ragazzi che giocano e questa è una cosa bellissima anzi il subuti o club di Colombarone annualmente svolge attività all'interno delle scuole appunto con un progetto collegato all'arte della miniatura quindi si fanno dipingere gli omini del subuteo e quindi si fa l'arte della miniatura e la si collega al gioco del subuteo si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci come di consueto diamo lo sguardo ad alcuni appuntamenti sulla nostra emittente cominciando dalla prima serata che in questo venerdì alle 21.20 propone il nostro speciale realizzato in occasione dell'assemblea pubblica di confartigianato protagonisti nel cambiamento imprese patrimonio del paese appuntamento dunque questa sera alle 21.20 e poi ogni venerdì alle 19 va in onda vox pop la voce dei pesaresi per chi si fosse perso la puntata di poco fa niente paura perché potrà rivederla anche con le repliche che cominciano già questa sera alle 22.30 e poi anche nelle giornate di domani alle 13.45 alle 21 e poi anche domenica lunedì e martedì come potete vedere in grafica argomento di questa puntata è quello degli studenti pesaresi che salutano un anno scolastico segnato da dad e mascherine e poi vi ricordiamo come di consueto il nostro appuntamento fisso dal lunedì al sabato con la rassegna stampa buongiorno Rossini domani appuntamento come sempre in diretta dalle 7.20 a farvi compagnia sarà il nostro Marco Cadeddu e ancora il venerdì anche il pomeriggio dedicato alla lettura il commento al Vangelo della domenica per chi si fosse perso questa puntata di oggi a cura di Don Marco di Giorgio può rivederla domattina alle 10.30 e al pomeriggio alle 16 e altre repliche domenica mattina alle 8 e alle 11 ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi